Il Brunei fa marcia indietro sulla Sharia. Il sultano Hassanal Bolkiah ha fatto sapere che la pena di morte prevista dalla legge islamica non sarà applicata, contrariamente a quanto annunciato lo scorso 3 aprile. La nuova legge prevedeva la lapidazione in caso di sesso omosessuale, stupro e adulterio e aveva scatenato in tutto il mondo proteste portate avanti da attori e celebrità. Nel Brunei anche altri crimini, come l'omicidio e il traffico di droga, sono punibili con la pena capitale, anche se è dal 1990 che non ci sono esecuzioni. Una moratoria di fatto che il sultano ha deciso di estendere ulteriormente.